Ciao a tutti! Spesso mi capita di utilizzare questo brano quando faccio le lezioni con i bambini più piccoli che guardano ovviamente i cartoni animati e questo Peppa Pig a loro piace tantissimo e vi vi faccio vedere come lo faccio perché spesso mi viene chiesto anche con i ragazzi più giovani che studiano allora le note sono queste mi re do re sol ok siamo in terza posizione quindi mi accorgio sol maggiore mi re do re sol questo sol si re poi sol si re fa mi do come ditteggiature faccio suono il mi poi leggo quindi senza suonare in questa mano leggo do re sol poi faccio sol si re fa mi col tre do col due poi di nuovo mi re do re sol sol si re fa do con questa mano invece attenzione che faccio leggo poi sol si re fa mi do quindi sol i pollice indice medio indice medio e la prima volta l'indice sul do quindi la seconda volta invece no questo sol si re fa con l'indice e e do con il pollice ok che passi bassi quindi col basso di do mi re do possiamo legare oppure mi come preferite oppure suonarlo poi sol e re sol e poi mi sposto su questo accordo qua sol maggiore sol si re e fa attenzione che per fare questo bisogna avere un bel allargamento tra l'indice e il gomito il gomito il gomito verso l'interno e di qui pollice indice medio nonare quindi sol da 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 poi nuovo e finale attenzione che quindi in questa in questa parte quando l'ho quando l'utilizzate e mi raccomando nella prima parte fate pausa li guardate tutti poi ok e poi partite e poi questa parte importantissima perché loro dall'altra parte quando adesso si re fa do si aspettano con questo gesto si aspettano che voi facciate dall'altra parte quindi tutti tutti che si mettono a ridere fanno tutti il verso del maiale va bene spero vi possa essere stato utile questo questo tutorial su questo su questo frammentino di musica e mi raccomando divertitevi con i vostri allievi alla grande ciao